Ehi V, ho un amico nei guai, ha perso un occhio a carte e lo rivuole. Parlo di un impianto ovviamente. Dovrebbero essere di facili, ci stai? Controlla i dettagli allegati. Controlla i dettagli. Controlla i dettagli. Controlla i dettagli. Controlla i dettagli, ci stai? Controlla i dettagli. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Ok! Non serve ringraziarmi! Concludiamo questa faccenda! Grazie a tutti! Grazie a tutti! C'è solo da qui in poi... ...ce la fai di sicuro! Ehi! Senti! Una cosa! Gli ha sganciato gli eddi per tirarmi fuori! Mekidio! Sapeva che saresti stato nei guai dopo quello che ha fatto! Ah... è proprio da lui! Prima mi mette nella merda e poi cerca di tirarmi fuori! Adesso non so se devo sputargli in faccia o stringergli la mano quando lo vedo È meglio per tutti e due se non vi vedete Mai più Sei in gamba Non farti schiacciare da questa città E se succede, fai in modo che non ti dimentichi Ho saputo che Roe è al sicuro Devo ammettere che sono colpita Hai gestito la situazione da professionista Chiudo il contratto e ti mando gli epi Rivestimento in grafite per maggiore resistenza Prova di qualità Potevi aggiungere anche un braccio I statuaggi me li ha fatti mio fratello Mi dispiacevo Miancini Non mi tocare! Non mi tocare. Non mi tocare. A pistol is rocking in the city. For a right way, Richard out of town. Militech. Protection for air raid. No. Everyone wants to know what the moochies like? Try moochies. Made right here in orbit. Приpping your own. I'm going to move. Average character to the admin. The need to prepare to live in the city. Oh! Ugh. Ah 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 C'è qualcuno? Ah 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 Grazie per la visione! Sì, non è vero. Dove sei finito, prodotto? 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 Mi sa tanto che c'è lo zampino di un cyberpsicopatico e voglio sapere se c'entra la droga. Un cadavere non va bene da analizzare, quindi prendilo vivo. Che bel quartiere! Dove sei finito, prodotto? Dove sei finito, prodotto? Dove sei finito, prodotto? Dove sei finito, prodotto? Grazie a tutti. Porca merda. Bene, bene, tesoro. Dove vorresti andare? Bene, 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 bene. Bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Bene, bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.